Gli accumuli con le pompe di calore. Sì? No? Forse? Beh, eccoci nella seconda parte del video insieme all'ingegner Paolo Savoia, di cui ti invito ad andare a vedere il suo profilo su LinkedIn, sempre molto ricco di post e di informazioni sul tema degli impianti residenziali e non solo. La prima parte del video abbiamo visto come accumulare energia termica sulla casa, nella casa, attraverso l'aria, attraverso la struttura, poi siamo passati alla parte dell'impianto, quindi acqua tecnica, quindi l'acqua che facciamo scorrere nell'impianto di riscaldamento e raffrescamento. Adesso vediamo invece l'accumulo sotto forma di acqua calda sanitaria. Cosa mi racconti Paolo di questo tema? Ecco, l'acqua calda sanitaria è un bel dilemma, perché con le pompe di calore sempre bisogna accumulare acqua calda sanitaria. Quando accumulare? Perché abbiamo già visto che in realtà sarebbe la cosa migliore per non aver perdite, molti parlano di efficienze, io parlo di perdite, il completamento è uno, sarebbe produrle istantaneamente, non possiamo, dobbiamo accumulare. Per accumulare l'acqua calda sanitaria, che dobbiamo farlo, che strategie possiamo utilizzare? Innanzitutto, quanta ne possiamo accumulare di energia? Ora, di energia accumulabile in un bollitore di acqua calda sanitaria, bollitore sanitario, accumulo inerziale, comunque con produzione rapida, possiamo accumularne parecchio in realtà. Possiamo accumularne parecchio perché il bollitore può essere di un certo volume, anche 400 litri, può essere per un'abitazione normale, insomma, per una villetta un po' grande. Per cui possiamo aumentare parecchio l'energia accumulata, rispetto ad esempio al sistema di cui abbiamo parlato, dell'inerziale sul riscaldamento, che è da 100 litri, 150 litri. Il problema in questo caso è capire, a mio avviso in maniera corretta, l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria da parte degli occupanti e caricare il bollitore poco prima dell'utilizzo reale. Perché cosa succede? Succede che i bollitori di acqua calda sanitaria e tutti i componenti che si allacciano al bollitore, quindi tutte le tubazioni, ad esempio, che si allacciano e ce ne sono di tubazioni, c'è quella dell'acqua calda, c'è quella del ricircolo, dell'acqua fredda, che comunque il contatto col bollitore è caldo, quindi è calda, e eventualmente, parliamo di un bollitore classico, della mandata e del ritorno alla pompa di calore, tutte le tubazioni che rimangono calde, quindi quando si isola bisogna isolare tutto bene, queste disperdono un sacco di energia, ma proprio un sacco, proprio un sacco. Bollitori, parlavamo di monitoraggi, io ho iniziato ad avere la mania di mettere i bollitori in classe A e ce ne sono anche pochissimi sull'acqua sanitaria, proprio perché mi sono reso conto che i classici pulitori in classe C, ad esempio, riescono a perdere anche più di un grado ogni ora. Per questo io, ad esempio, ad una pompa di calore dico, caricati quando sei sotto i 42 e fermati quando sei a 47, che è un'acqua calda sanitaria, quindi ci vorrà di più di energia, che è un normale funzionamento, poi si può ragionare. Se lo carico, 5 ore dopo posso, senza aver utilizzato l'acqua, doverlo ricaricare nuovamente per mantenerlo in temperatura. E questa è una cosa, secondo me, energeticamente disastrosa. Lasciamo perdere il ricircolo, che quello è un altro problema, ok? Enorme, ok? Ma il bollitore di acqua sanitaria è impegnativo. Le installazioni poi all'esterno, ancora di più, ovviamente, perché aumenta il salto termico. Quindi la strategia, in questo caso, è nel momento in cui è un bollitore che non è particolarmente prestazionale, quindi in classe A, che ce ne è anche davvero pochi, ecco, in classe A, per dirti, monitorato, perde, con 25 gradi di salto termico, acqua, aria, perde 0-15 gradi ogni ora, rispetto all'uno, uno e mezzo che è di bollitore tipo in classe C, ok? Quindi c'è un'enorme differenza. 10 volte in meno? 10 volte in meno. Cioè, questo mi rimane carico tutta la giornata, anche senza l'utilizzo. Un'enorme differenza. Nel momento in cui ho un bollitore, ad esempio, non perfettamente prestazionale, devo cercare di concentrare il caricamento dell'acqua poco prima del reale utilizzo, magari facendo anche più caricamenti, ok? Poi anche in funzione se lo accumula è grande o piccolo. Quindi, quel che è importante è andare a ridurre le perdite degli accumuli energeticamente, altrimenti accumulare energia può essere completamente, anche parassita in realtà. Parassita perché? Perché se noi pensiamo ad esempio ad un impianto installato all'interno, all'interno di locali riscaldati e raffrescati, le dispersioni dei bollettori mi diventano dei carichi in ambiente durante il periodo estivo. Quindi va veramente tutto un attimino calibrato. Quindi se noi dobbiamo ad esempio sfruttare, come facevamo nel discorso prima, un eccesso di produzione fotovoltaica, scarichiamola nel bollitore, va bene? Ma se la scarico nel bollitore, il bollitore non è un bollitore prestazionale, mi rimane lì per 5 ore, se con 25 gradi salto termico mi perdo un grado all'ora, se vado a fare un caricamento di 10 gradi in più, ad esempio 35 gradi, quindi 55 ad esempio lo accumulo, cosa mi succede? Succede che questo bollitore disperta tantissimo di più. Disperta ancora di più di quell'uno che dicevo prima, uno e mezzo, disperte due gradi, per cui dopo tre ore devo ricaricarlo. Quindi una sorta di cane che si morde la coda e questa diventa una inefficienza in realtà complessiva dell'impianto, anche se l'energia l'ho prodotta, potevo tranquillamente metterla in rete che mi veniva remunerata, qui l'ho immagazzinata, ma l'ho in realtà dispersa e devo pagare eventualmente la pompa di calore, l'energia elettrica della pompa di calore, per raffrescare l'ambiente dei carichi che mi ha dato anche l'acqua. Quindi sull'acqua sanitaria io cerco sempre esperienza, ormai la chiamo esperienza non più errori, di andare sempre su bollitori molto isolati, se ando bene le tubazioni, e ottimizzare il caricamento sì in funzione della protezione fotovoltaica, ad esempio, ma anche in funzione dell'utilizzo dell'abitazione. Poi ci mancherebbe altro, chi vuole bollitore carico 24 ore al giorno, basta saperlo prima e ci si organizza da questo punto di vista. Anche perché poi, come dicevi, diventa una stufetta in centrale termica d'estate che mi resta raffrescando e poi mi trovo questa stufetta che continua a riscaldare l'ambiente. Anche un altro tema sul sanitario, di cui abbiamo già discusso, anche caricare il bollitore sanitario alla sua attenzione, cioè, scaricare l'energia dalla pompa di calore verso il bollitore lo devo fare attraverso un serpentino, ad esempio se è un acqua calda sanitaria. Tu dalla tua esperienza cosa mi racconti? Ecco, perché se il serpentino è troppo piccolo, ad esempio per avere 40 gradi nel bollitore, devo avere 50-55 gradi nella pompa di calore. Invece, se aumentiamo la superficie, lo scambiatore, possiamo ridurre di molto questo, e avere una pompa di calore che lavora a più bassa temperatura e quindi consuma meno. Dalla tua esperienza, che mi racconti? Ah, esperienza qui ce n'è tanta. Anche ci sono tanti calcoli, qualcuno l'ha anche condiviso così su qualche articolo su LinkedIn. Qui in realtà, Samuele, perdonami la battuta, ma le dimensioni contano. Contano le dimensioni dello scambiatore. Normalmente cosa si dice? Normalmente si dice che bastano 0,3 metri quadri di superficie di scambiatore per ogni chilobatt della pompa di calore. Sì, è vero. Vero perché? Perché per scaldare a circa 45 gradi, 48 gradi gli accolini, va benissimo. Cioè, può essere tranquillamente fatto con una pompa di calore che lavora a 10-12 gradi in più. Però, capiamoci bene, vuol dire in realtà andare ad avere un eccesso di consumo della pompa di calore, cioè devo produrre acqua a 10-12-15 gradi in più per averla a una temperatura molto più bassa. Se si sovradimensiona, quindi veramente tanto, ti parlavo prima di un caso in cui c'è quasi un metro quadro per ogni kilowatt, ok? In realtà si possono raggiungere caricamenti dell'accumulo con più 2 gradi di mandata, 2-3 gradi di mandata. Quindi riesco per avere un accumulo caricato a 45, devo mandare a 48, 53, devo mandare a 56. Quindi se io contengo parecchio questo salto termico, la pompa di calore mi darà la stessa energia, perché in realtà ha la stessa energia, ma consumando molto meno. Quindi è fondamentale in questo caso avere bollitori per pompe di calore, quindi con serpentini maggiorati, ma se vogliamo davvero ottimizzare, andare su parecchio con lo scambio. Poi non parliamo di eventuali altre logiche di regolazione delle pompe di calore che riescono magari a caricare il bollitore con molta calma, quindi in modalità risparmio energetico oppure in modalità parto e vado a manetta per dare l'acqua calda sanitaria, quelle sono altre logiche, ma a livello meccanico noi ingegneri possiamo andare a selezionare il componente giusto per far sì che l'acqua calda sanitaria, che è un componente importante economicamente ed energeticamente delle abitazioni moderne, venga prodotta davvero con la massima efficienza. Sì, soprattutto nelle nuove costruzioni o restrutturazioni importanti dove l'incidenza dell'acqua sanitaria rispetto al riscaldamento e al raffrescamento, insomma, stiamo parlando di ordini in grandezza molto simili. Ok, adesso vorrei parlare dell'accumulo con il materiale e cambiamento di fase, PCM, ma siccome l'argomento è piuttosto cicciotto lo affronterei un'altra volta anche perché non voglio rubarti troppo tempo. Andrei verso la fine di questo video forse con il tema del fotovoltaico e accumulare energia elettrica per poi riscaldare casa o raffrescare casa o l'acqua calda sanitaria. Ecco, allora sul tema accumulare energia elettrica rispetto a accumulare energia termica cosa mi racconti? Ricordo che Paolo ha messo a disposizione gratuitamente un foglio di calcolo che trovate nel link qui sotto dove potete andarvi a fare i calcoli e le vostre valutazioni. Vai con l'energia elettrica. Sì, anche accumulare l'energia elettrica comporta delle perdite, ok? Perdite di informazione in realtà da corrente continua dove può arrivare corrente alternata e qui me ne sono accorto parecchio di queste perdite ho cominciato a metterci il naso perché avendo un paio di auto elettriche c'è differenza tra la quantità di energia che viene messa nella batteria e quella che viene erogata dall'impianto. Quindi anche qui la cosa più importante sarebbe sempre quella di consumare nel momento del bisogno. Ovviamente non è possibile con l'impianto fotovoltaico non possiamo farlo la batteria energeticamente potrebbe essere un'ottima soluzione economicamente sarebbe molto da valutare detrazioni, non detrazioni energeticamente se ne può parlare e dico economicamente anche perché diciamo il mercato sarà in fermento, ok? E le batterie saranno batterie ormai tra qualche anno super diffuse si parla già di possibilità di veicoli ad esempio di caricare con i veicoli la casa quindi senza la classica batteria quindi utilizzare la batteria dell'auto eventualmente per alimentare i carichi della casa. Detto questo io ad esempio ce l'ho la batteria l'ho acquistata grazie agli incentivi del super bonus diversamente l'avrei acquistata comunque perché a volte si fanno gli acquisti non solo col portafoglio ma anche per curiosità personale barra professionale e ti dico che negli ultimi due mesi io sono totalmente autonomo totalmente autonomo per pompa di calore qualsiasi cosa che è elettrodomestici anche con le auto quindi riesco a dare autonomia davvero molto importante a tutto l'edificio e anche appunto alla parte di mobilità che non è da trascurare fondamentale è avere quindi un inverter è un sistema di batterie che abbia un'alta efficienza quindi attenzione alle conversioni multiple fra i tipi di corrente e la possibilità anche in questo caso di generare energia termica dall'energia elettrica può essere conveniente per gli utilizzi che abbiamo quindi l'acqua calda sanitaria o ad esempio il raffrescamento e riscaldamento perché ad esempio possiamo avere l'impianto sud-est e l'utilizzo quindi che riceve più radiazione surare durante le prime ore della mattina e ad esempio l'utilizzo di acqua calda sanitaria durante le tarde ore della giornata in questo caso quindi cosa possiamo fare potrebbe eventualmente l'accumulo scusami la radiazione solare non è sufficiente per alimentare la pompa di calore verso le 7 di sera quando arrivano gli utilizzatori della casa in questo caso potremmo tranquillamente andare a prelevare l'energia che abbiamo accumulato la mattina quindi sfasare sfasare la produzione di calore attraverso l'accumulo di energia elettrica la cosa più intelligente in questo caso sarebbe avere la falda a sud-ovest in maniera tale di avere eventualmente possibilità se non ce l'abbiamo è diventa un ottimo stratagemma per andare comunque sia nel nostro caso ad utilizzare l'acqua calda sanitaria prodotta diciamo così in maniera gratuita grazie al sole a chi piace mettere sempre il naso sui numeri confrontarli valutarli che peso daresti allora abbiamo visto accumulare nell'aria accumulare nelle strutture accumulare nell'acqua e accumulare energia elettrica facciamo 100 il complessivo che peso daresti a queste quattro macrofamiglie così mi fai una domanda troppo difficile come diceva Rabbe De Pablo De Pablo se non ricordo male dipende nella canzone diceva dipende il problema è che dipende dipende da un sacco di fattori la soluzione spesso è a mio avviso un giusto mix del tutto il giusto mix che si può ottenere anche come se ne parlava prima all'inizio la cosa più importante è monitorare monitorare capire e ottimizzare e spostando a quel punto lì eventualmente alcune alcuni accumuli da una parte l'altra ok nel momento in cui ti dico ho un'abitazione con alta costante di tempo accumulare nell'aria è semplicissimo posso produrre il calore in poche ore della giornata e il calore mi rimane tradotto per gli amici non tecnici una vibrazione con alta costante di tempo significa che si raffredda molto lentamente nel tempo si raggiunta una temperatura l'esterno rimane a condizioni stabili l'abbassamento della temperatura è molto graduale facevamo a riferimento nel video precedente a circa si può perdere un grado massimo in 12 ore in giornate particolarmente fredde ok con la qualità dell'aria interna in questo caso è una strategia da utilizzare assolutamente quella di fare un aumento del set point il bollitore dell'acqua calda sanitaria che è un utilizzo che dobbiamo fare dobbiamo ottimizzarlo in funzione anche della tipologia di bollitore bollitore alta efficienza o bassa efficienza e in funzione della possibilità scusami più che della possibilità dell'utilizzo dell'acqua da parte degli occupanti sul caricamento del bollitore invece come inteso come volano termico dal mio punto di vista dico che è una soluzione che utilizzo un po' meno un po' meno perché in realtà devo far lavorare la pompa di calore comunque a temperature più elevate e non mi contribuisce globalmente tantissimo energeticamente ok il bollitore poi in un'ora me lo si scarica quindi lo devo continuare a ricaricare ed in estate perdonami non posso andare ad alimentare a temperature troppo basse ovviamente se ho un impianto che funziona a 10 gradi ok ma se ho già un impianto che funziona a 7 barra 9 faccio un po' fatica ad andare a togliere calore quindi in qualche maniera ad accumulare energia quindi monitorare e trovare il giusto compromesso tra l'accumulo termico e l'accumulo anche elettrico che ripeto aiuta davvero tantissimo e permette in un'abitazione di essere autosufficienti per parecchi e parecchi mesi all'anno certo sì hai ragione non c'è una risposta univoca perché qui non stiamo parlando di un'automobile che ha delle prestazioni uguali per tutti per chiunque acquista quell'automobile sa che in campagna consumerà x in città consumerà y qui stiamo parlando di un sistema che dipende da un sacco di fattori dall'edificio dall'impianto da chi lo usa da che temperature vuole all'interno quindi va sempre studiato analizzato con i numeri nel caso specifico è un vestito a tutti gli effetti cucito su misure bene Paolo grazie grazie per questa carrellata grazie del tempo che ci hai dato per affrontare questi temi per me molto importanti colgo con l'occasione per dire dai facciamo un altro video sui PCM quindi materiali a cambiamento di fase tra l'altro ne stiamo testando un po' e così magari parliamo sui numeri reali non tanto per parlare come le chiacchiere da bar che ci sono e ci diamo appuntamento come sempre al prossimo video grazie ancora se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale youtube e se vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica vai nel link qui sotto Paolo grazie mille e alla prossima grazie a te Samuele buon lavoro anche a voi grazie a te